un teschio riferimento quindi teoricamente dovrebbe esserci qualcosa tutti sul teschio soppri un po' spredati destra e sinistra i marchetti fuori come viene via dalle spy ci raggruppiamo sul teschio poi ci muoviamo a destra fuori a destra poi subito a sinistra via dalle spy 2 stacca testa ci abbiamo allora no no sul teschio tutti bravi 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 fuori come viene attenzione via dalle spy di sinistra bravo urla luca ci raggruppiamo sul teschio sul teschio andiamo a destra e poi via dalle spy subito via via dalle spy ok tuo ci mettiamo sul teschio tutti a sinistra con urla poi via ci raggruppiamo sul teschio meno sul teschio un po' destra un po' a sinistra fuori come viene e occhio che ce l'ho a premio ci raggruppiamo sul teschio andiamo tutti a destra andiamo 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 subito a sinistra via dalle spy urla dal terra ottimo sul teschio anche sulle spy non è il boss è il boss guarda qui mi ristra via via fermo fuori come viene prima quella di destra ci raggiungiamo sul teschio subito a sinistra via dalle spy via dalle spy ok sul teschio vediamo se lo reggio lo reggio lo reggio ti è abbaffato subito a sinistra via di destra 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 Sperati, fuori con la viena. Aggiungo per il respite. Evi corrigi. Corrigi. Rest, rest, rest il tank. Grazie. Ciao. Vai, vai, vai. Bravo baby. Grazie. 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 Grazie.